oh no il motoscavo c'è tu? ma che dici? il motoscavo c'è tu? ma adesso stronzo! c'è tu o no? ah! c'è tu? ma levati di coglio con questo mangiato! c'è tu o no? mannaggia che sento freddo! c'è tu o no? eh! c'è? ma quel c'ho, quel c'ho c'è uno? c'è? levati! mannaggia! eh! io ciao! vieno vieno che trovi una cosa! che me la dì? vaffanculo! oh grazie così almeno posso partire meglio giustamente! che stai fa? eh? che stai fa? che stai fa? la barba questo! ma te trema il braccio! ma te pulisci! guarda! ti viene da ridere però eh! si ma tu scappa! ti viene da ridere! questa è la merenda vera umbrish! vieno Anna Marie? è vero! pane abbruscato un filo d'olio e prosciutto! eh! è certo! guardate il lavoro! questa è la vera merenda! ok? ok! che stai fa? lo cos'è il prosciutto! l'osso del prosciutto! quello ci si fa qualcosa! qua è così! e questo è una cosa bella! ho portato un amico! buongiorno! buongiorno! come state? bene! 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 ma scalzo no! scalzo no! almeno con le sciabati! no! no! su eminenza no! ma su eminenza no!